ragazzi buonasera a tutti voi buona cena per chi sta cenando buona serata siamo alla vigilia del preliminare di europa league preliminare che la roma avrebbe dovuto dovuto a tutti i costi evitare per non incrociare poi quelle che provenivano dalle terze di champions non ci siamo riusciti in un girone ridicolo questo è una cosa che a me fa ruotere parecchio il sedere non so voi perché potevamo affrontare una partita sicuramente più semplice e comunque aspettare gli ottavi per giocare non fare questa partita supplementare che ci condiziona anche il cammino in campionato perché ragazzi andiamo a salisburgo domani fortunatamente la trasferta non è così impegnativa dal punto di vista logistico però poi andiamo ad affrontare domenica un verona che è in serie positiva da tante partite ha fermato la lazio è in piena zona salvezza deve vincere raga mettiamoci in testa una cosa che domenica comunque si soffriremo con il verona e non è scontata la vittoria mettetevelo bene in testa perché murino l'ha sempre detto l'ha sempre ribadito che sta squadra non è capace di fare l'impegno coppa campionato infrasettimanale per la rosa che ha per cui prepariamoci perché comunque qualche difficoltà ce l'avremo sicuramente sia in campionato ma soprattutto anche domani a salisburgo è una squadra ostica una squadra rognosa è una squadra che in casa comunque difficilmente si fa battere c'è uno stadio caldo è una squadra che comunque proviene dalla champions sono anni che fa la champions quindi non è una squadra assolutamente da prendere sotto campo anzi è una squadra ostica certo tra quelle che c'erano alla fine c'è capitato forse una delle migliori perché c'erano squadre direttamente più forti ragazzi però la partita è difficile ci dobbiamo subito subito secondo me secondo me dobbiamo assolutamente domani giovedì sera visto che giochiamo in trasferta vi ricordo che non ci sono più i gol che vargono doppio in trasferta quindi ragazzi dobbiamo assolutamente cercare di portarci a casa la qualificazione domani sera lì in austria in modo che poi a ritorno in casa potremo fare quel minimo di turnover che siamo costretti a fare perché comunque si gioca ogni tre giorni per me in questo momento ragazzi non so per voi la priorità è il campionato perché noi in campionato dobbiamo assolutamente andare in champions e quest'anno è una 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 chance unica secondo me perché tante squadre stanno andando al di sotto delle loro possibilità vedi milan e inter che comunque hanno tre punti in più di noi milano stanno a pari punti con noi la juventus è stata per adesso tagliata fuori ma io non mi stupirei se poi a fine anno i punti gli ridanno quindi in questo momento sarebbe addirittura seconda quindi non dobbiamo calcolare il fatto che la juve sia fuori dei giochi però ragazzi io darei priorità in questo momento al campionato perché per la roma è troppo troppo importante tornare in champions e prendere i soldi dalla champions l'europa league è un obiettivo purtroppo noi abbiamo buttato al vento al vento dico alle ortiche in maniera alquanto vergognosa la possibilità di arrivare in coppa italia perché quello era una situazione che ci si era apparecchiata proprio in maniera clamorosa con mila e napoli eliminati ragazzi siamo riusciti a perdere in casa con la cremonese questo venute stanno a tornacce sopra ma ogni tanto ci penso e mi ruote veramente il sedere in maniera allucinante però ragazzi l'europa league ci sono squadre veramente forti se voi prendete i preliminari che ci stanno domani c'è un barcellona manchester united che sarebbe da champions league tutta la vita poi ci sono squadre come l'ajax come lo sport in glisbona come il psv endoven come il civilia soltanto in questi preliminari poi ci sono le squadre che già sono qualificate per gli ottavi che sono squadre anche maggiormente più forti soprattutto l'arsenal primatista in premier league quindi arrivare in finale d'europa league quest'anno è veramente dura anche se poi può succedere tutto perché la roma secondo me se gioca come le ultime partite se la può giocare con tutti chiaramente però pensate agli sforzi psicofisici di una semifinale magari con un arsenal cosa poi ti può portare dopo alla giornata di campionato per cui ragazzi secondo me noi dobbiamo cercare di limitare le forze cercare di magari domani di portare a casa il risultato subito lì di cercare con tutte le difficoltà del caso di andare a vincere poi col verona mettere qualche riserva ritorno con il salisburgo se domani noi a qui facciamo un ottima partita domani lì in austria e magari vinciamo e la qualificazione dalla nostra parte poi si andrà a cremona ragazzi voi dovete pensare che le partite adesso in poi sono tutte partite complicate guardate l'inter che ha pareggiato con la sandoria noi che abbiamo pareggiato con lecce il verona che ha battuto la salernitana e ha fermato la lazio ragazzi qui non te regala niente nessuno se tu non entri in campo con il giusta concentrazione la giusta cattiveria determinazione voglia senza bene sotto camma nessun impegno tu non la vinci la partita ragazzi pure se giochi contro ste squadre per cui ragazzi quando sentito dire adesso faremo nove punti tra lecce verona e cremonese a parte già non si è verificata sta cosa però ragazzi non è semplice come sembra non è semplice come sembra c'è bisogna giocare concentrati e quello che dice murinio che noi non ci abbiamo le squadra per fare due impegni settimanali è vero per questo vediamo che è difficoltoso il cammino della ruma da adesso in poi proprio per fatto che si giocherà ogni tre giorni poi vi ricordo che dopo lecce ci abbiamo giocato dopo il verona cremonese ci avremo la juventus in casa quella deve essere la partita da vince chiaramente un po per andare in vantaggio negli sconti diretti un po perché comunque in questo momento la juve se gli ridanno i punti ci starebbe sopra per cui era fondamentale batte anche la juve cioè sono tante cose che non è semplice da da gestire ragazzi fortunatamente anche la lazio c'è l'impegno infrasettimanale il mira c'è la champions league l'inter c'è la champions league l'unica squadra che non ha impegno è l'atalanta che infatti ragazzi secondo me è quella più pericolosa da sto punto di vista perché praticamente si può concentrare tutta la settimana sull'unica partita di campionato non ha impegni infrasettimanali hanno più energia fisica hanno una rosa grande che gli possa comunque permettere di gestire partita per partita quindi ragazzi la situazione è molto molto diciamo complicata per la roma speriamo che la squadra continui a giocare come sta giocando che mantenga la forma fisica che sta giocando e soprattutto soprattutto che non andiamo incontro a infortuni perché un dibala che le fa giocare tutte ragazzi sapete bene che è soggetto a guai muscolari quindi dobbiamo assolutamente preservare paolo perché il giocatore più importante e cercare comunque di far giocare anche un po i panchinari perché altrimenti noi fra un mese siamo scoppiati per quanto riguarda la formazione ragazzi dovrebbe essere quella delle ultime partite vale a dire lui patrissio in porta la solita difesa a tre titolare con mancini smolling e i banes dovrebbero giocare matic e cristante a centro campo sulle fasce dovrebbero starci zaleschi ed ersharawi e poi ci sarà dibala e pellegrini alle spalle di abram squadra scontata quella titolare e dobbiamo goderci questa partita domani alle 6 e 45 ragazzi su da zone e sky la possiamo vedere la partita farò il video dopo e poi vedrò se riuscirò dopo a fare una live o da solo o in compagnia di amici mi devi far sapere che abbiamo tutti e due degli impegni lavorativi dobbiamo vedere se riusciamo a liberarci però questo è il programma di domani video sulla partita è live ragazzi buona serata a tutti voi fatemi sapere cosa ne pensate del video iscrivetevi al canale mettete tanti like mi raccomando grazie sempre a tutti i ragazzi che si iscrivono che guardano i miei video grazie di cuore attivate la campanella se volete rimanere aggiornati sui miei contenuti per adesso ragazzi vi saluto e sempre Forza Roma